Rinnovati e confermati i vertici dell'Assemblea Legislativa della Regione Toscana, Presidente, vice, questori e segretari proseguono il loro lavoro. La Commissione Sanità è in visita alla Fondazione Monasterio, sopralluoghi a Massa e a Pisa. Sicurezza Ferroviaria è il dibattito in Consiglio regionale poche ore prima dell'incidente a Firenze Castello. Il Consiglio regionale premia Alessandro Dressadore, lo sciatore pistoiese, bronzo ai mondiali paralimpici. L'Assemblea Legislativa della Regione Toscana rinnova e conferma i suoi vertici. Antonio Mazzeo, con 36 voti su 40, è stato rieletto Presidente del Consiglio regionale, mentre Stefano Scaramelli e Marco Casucci sono stati confermati alla Vicepresidenza. La composizione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si è completata con l'elezione dei due consiglieri con funzione di questori, per il cui ruolo l'Aula ha votato Francesco Gazzetti e Marco Stella. Nel segno della continuità anche l'elezione dei due consiglieri segretari, Federica Frattoni e Diego Petrucci. La Commissione Sanità visita la Fondazione Monasterio, con un sopralluogo all'Ospedale del Cuore di Massa e uno al San Cataldo CNR di Pisa. Oltre a visitare le strutture, i consiglieri regionali hanno incontrato i responsabili ai coordinatori, i rappresentanti dei lavoratori e le associazioni attive all'interno dei due presidi. Qui da Massa, da Pisa, si ha rapporti con tutti i maggiori centri di ricerca che si occupano del cuore nel mondo, tanti professionisti del mondo vengono qui a formarsi, è un esperimento perché è una fondazione di diritto pubblico dove CNR e la Regione sono messi insieme per creare, grazie a un'idea avanzata del Professor Donato, un luogo dove si fa alto livello di ricerca e si curano i cittadini e si ha rapporti anche con il territorio. Quindi un modello per tutto il sistema sanitario nazionale, sicuramente regionale, un'eccellenza del sistema toscano nel quale noi vogliamo si continui a investire e dove si vede e si può toccare con mano come la tecnologia è un elemento importante e come cambierà davvero il modo di curare i nostri cittadini nei prossimi anni. Allora, io che sono un medico sono rimasto positivamente impressionato dalla competenza e dalla preparazione non soltanto medica degli specialisti ma anche dei mezzi con i quali si approcciano al paziente. Per cui per la Toscana questo è sicuramente un grande istituto, bisogna contestualizzarlo nell'ambito della sanità toscana che purtroppo ha tante altre pecche. Il commento del direttore della Fondazione Monasterio alla visita della Commissione. Siamo molto contenti di accogliere oggi la terza Commissione qui in visita nelle nostre due strutture perché Fondazione Monasterio è l'unica istituzione in Italia interamente dedicata alle cure cardiologiche, dal neonato al grande anziano. Abbiamo però una grande complessità perché abbiamo due anime, due ospedaline del cuore, una massa e una appisa, quindi siamo contenti di mostrare, far toccare con mano quello che fanno tutti i giorni i nostri professionisti ma anche le nostre perle, le nostre peculiarità, i nostri laboratori di ricerca, i nostri progetti di ampliamento, la nostra cartella clinica elettronica. Mi sembra che l'inizio di questa giornata sia stato molto positivo e profico, abbiamo provato a dare a 360 gradi una visione di quello che fa nella complessità dell'attività di Fondazione Monasterio. Quello che mi piace e mi è piaciuto che sia già emerso dalle prime battute della visita è la forte integrazione tra professionisti, un fortissimo senso di attaccamento e di appartenenza del nostro personale e poi l'integrazione anche addirittura con le associazioni di volontariato che rappresentano poi il legame di queste due strutture col territorio di massa di Pisa, ma direi di tutta la Toscana. Al San Cataldo CNR di Pisa ha preso parte alla visita anche il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo con il presidente Sostegni, il vicepresidente Andrea Ulmi, i consiglieri Andrea Vannucci e Andrea Pieroni. A massa con il presidente Sostegni hanno partecipato al sopralluogo la consigliera Donatella Spadi e il consigliere Andrea Vannucci. Sicurezza ferroviaria al centro del dibattito del Consiglio regionale alla vigilia dell'incidente del 20 aprile. Mercoledì scorso, solo poche ore prima del deragliamento del carro merci in prossimità della stazione di Firenze Castello che ha paralizzato per ore la circolazione dei treni in mezza Italia, la Lega aveva presentato un'interrogazione alla Giunta regionale in merito agli interventi previsti per garantire la sicurezza del trasporto merci sulle linee ferroviarie con particolare riferimento al passaggio dei carri cisterna nei centri abitati. Gli esponenti del carroccio avevano preso spunto da quanto accaduto lo scorso 3 febbraio a Viareggio dove un treno carico di GPL si era fermato per un principio di incendio, un pericolo scampato che aveva riportato immediatamente alla memoria la strage del 29 giugno 2009 quando, sempre nella stazione di Viareggio, il deragliamento di un treno merci carico di GPL provocò un'esplosione costata la vita a 32 persone. Abbiamo presentato un'interrogazione che cercasse di focalizzare quelle che erano le dinamiche effettivamente avvenute il 3 febbraio scorso quando si è rischiato il ripetersi di un'altra strage come quella avvenuta in me a Viareggio nel 2009 e abbiamo chiesto anche di avere contezza di quello che è la situazione per quanto riguarda il trasporto ferroviario delle merci pericolose in particolare per quelle che attraversano le stazioni che sono all'interno dei centri abitati. L'abbiamo fatto in un contesto più ampio che è quella della visita che ha fatto il gruppo consigliare regionale in Europa grazie all'invito dell'euro parlamentare Susanna Ceccardi dove abbiamo posto anche lì la problematica della sicurezza stradale per quanto riguarda queste cisterne e come abbiamo fatto anche in questi giorni incontrando i familiari delle vittime e organizzando quello che a breve sarà un incontro al Ministero delle Infrastrutture con il Ministro Salvini che proprio in questi giorni è intervenuto confermando che è in attesa di incontrarli e confermando soprattutto che uno dei temi centrali del Ministero delle Infrastrutture è quello di guardare alla sicurezza in particolar modo alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose. Questa interrogazione aveva spinto l'assessore alle infrastrutture della Regione Toscana Stefano Baccelli ad approfondire con gli enti competenti l'episodio del 3 febbraio. In relazione alla richiesta circa gli elementi relativi a tali procedure che possono essere utili per verificare i fatti accaduti a bereggio il 3 febbraio 2023 io considererei a questo punto necessario procedere richiedendo ad Ansfisa e dalla direzione generale competente del Ministero dell'Asfisa. Ovviamente allegherei e consegnerei l'intera comunicazione da parte della Sfisa, verificherei con l'associazione nell'immediatezza del post incontro che cosa anche loro hanno saputo ma poi sulla scorta anche di questo inevitabile rimando di competenze da parte di RFI che non è il soggetto direttamente gestore ovviamente del materiale rotabile, direi che procediamo in questo iter di approfondimento richiedendo ad Ansfisa tutte le delucidazioni che anche in questa interrogazione sono presenti. impegni e approfondimenti che probabilmente saranno ampliati e rinnovati a seguito del nuovo incidente, quello del 20 aprile. Il Consiglio regionale celebra il talento, la tenacia e la determinazione di Alessandro Dressadore, giovane pistoiese protagonista dei recenti mondiali di sci alpino per diversamente abili dove si è aggiudicato due medaglie di bronzo. Per celebrare questo risultato l'Assemblea legislativa toscana ha voluto assegnare allo sciatore una targa di riconoscimento. Sono davvero orgoglioso oggi di premiare Alessandro Dressadore. Il premio ad Alessandro è un premio all'impegno, alla voglia di farci, al riconoscimento per portare in alto, in Europa, nel mondo, il nome della Toscana. Le due medaglie di bronzo conseguite quest'anno nei mondiali di sci alpino danno il senso delle qualità di Alessandro. Allora questo premio non è un punto di arrivo, vuole essere per lui un punto di partenza. Speriamo di rivederlo qui a festeggiare risultati ancora migliori. Alessandro è un esempio nella vita e nello sport. È la dimostrazione che con spirito di squadra, con senso di comunità, con una famiglia intelligente che ti segue, si possono raggiungere risultati sperati e incredibili. Da questo punto di vista è un esempio per tutti i ragazzi della sua età che non a caso l'hanno seguito qui nelle stanze della regione per ricevere questo premio, questa targa, questo riconoscimento che insieme alla bandiera della regione toscana lo accompagnerà nei prossimi mesi, nelle prossime gare. Ma ascoltiamo direttamente dalla sua viva voce come ha accolto il riconoscimento lo sciatore. Grazie, mi hanno spinto anche nell'autore. Nella prossima mondiale speriamo che la vincino ancora e deve essere ancora più forte, deve essere intenso e cercare di far meglio possibile. E qual è la tua disciplina preferita? La preferita è speciale e il super giro. E il giro anche mi mette. Quindi tutte? Sì, tutte. Ad accompagnare l'atleta c'era anche l'istruttore che lo ha preparato per i mondiali. Cosa devo dire di Alessandro? Vabbè, che è una forza della natura innanzitutto. Mi emoziona sempre a dirlo. Ha due genitori che gli danno la possibilità di fare tutto quello che gli piace fare. Sulle sci è molto dotato, devo dire. Io alleno dei normodotati e Alessandro. Nella solita maniera, anzi lui tante volte mi è d'esempio per ragazzini molto bravi, per come la giornata affronta la lezione con noi e suggerimenti che gli diamo. C'è un team tecnico molto preparato che ha preso in carico e ha gestito Alessandro in un ambiente familiare come la Dovanaccia che è riuscita a tirar fuori tutte le caratteristiche e le potenzialità di Alessandro. Lo sport è stato il trampolino di lancio per inserirlo nella società. Questo lo ha aiutato moltissimo perché lo sport è necessariamente a regole. Lo sport fa apprezzare i compagni, riesce poi a rispettare gli avversari e soprattutto rispettare se stesso. Lavora e quindi ha anche questo aspetto che è importantissimo per lui, l'ha fatto molto crescere. Lavora a Calenzano in una dita molto grossa, la BB Spa, e quindi deve combinare l'attività lavorativa con quella dello sport che sostanzialmente lo impegna completamente. Abbiamo lavorato tanto sull'autonomia, ma lo sport è stato quello che ha dato ad Alessandro quella spinta in più per migliorarsi e essere socialmente preparato ai vari gruppi che avrebbe incontrato nelle vite. Siamo rimasti molto sorpresi da questa medaglia perché non ce l'aspettavamo e comunque siamo stati molto contenti e in prossimo anno andremo più agguerriti sicuramente. Per questa edizione è tutto, potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina www.consiglio.regione.toscana.it